Eccomob, un importante appuntamento per ribadire quanto Pescara punta alla mobilità sostenibile. Sì, è un bellissimo binomio tra il Comune di Pescara e questa manifestazione della Camera di Commercio che ormai è diventata una delle più importanti in Italia. Il Comune di Pescara è presente ormai da anni, quest'anno è in grande forze, con uno stand in cui illustriamo tutti i progetti sulla mobilità, mostriamo anche i nostri mezzi per la mobilità sostenibile e anticipiamo anche le novità per l'autunno, bike sharing, moto elettriche a noleggio, oltre ai monopattini che hanno avuto un grandissimo successo e i nostri progetti anche per gli spostamenti casa lavoro. Insomma, è un po' un momento in cui si va a suggellare il lavoro fatto in questi anni, un lavoro prezioso in collaborazione con tanti volontari, ma anche in collaborazione con tanti cittadini che hanno iniziato a recepire pienamente quelli che sono i temi verso cui andremo negli anni prossimi e che sono quelli voluti dall'Europa più evoluta e quindi Pescara è una delle città oggi più all'avanguardia in tema di mobilità alternativa, di mobilità sostenibile e quindi sostanzialmente di non inquinamento della nostra aria. Pescara che raccoglie i frutti di quanto fatto in questi anni e punta ad essere una delle città più green d'Italia ma anche d'Europa. Sì, io parlo di un caso Pescara perché già oggi credo che Pescara, almeno sulla riviera Adriatica, sia una delle città più all'avanguardia in questa direzione. Nuove piste ciclabili, una velo stazione a Porta Nuova, ce ne sarà un'altra anche nella stazione di Pescara Centrale e quindi si iniziano a creare le condizioni per la condivisione, cioè per avere anche la intermodalità, arrivare magari con il treno a Pescara e poter trovare una bicicletta, poter trovare un monopattino, poter trovare una moto elettrica e quindi finalmente andare verso quell'obiettivo del 2050 che è quello della neutralità climatica che è un tema europeo. Pescara diventa anche una città smart, quindi facile da usare, dobbiamo lavorare ancora, c'è ancora tanto da fare, ma la strada intrapresa è sicuramente quella giusta.